Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Calcio e Caffè, il programma prodotto dalla redazione di Stadionews24, ultima tappa di avvicinamento a Palermo Inter, anticipo della nona giornata di campionato che si disputerà sabato sera allo stadio Renzo Barbera, partita importante per i Rosa, ma non soltanto questo nella puntata di oggi che vedremo con le prime pagine non solo dei giornali che parleranno del Palermo sia per quel che riguarda il campo che per quel che riguarda il fuoricampo, ovvero lo stadio, tutti i problemi legati al progetto del nuovo impianto che il presidente Zamparini vorrebbe costruire già da qualche anno qui a Palermo, tutto quel che riguarda l'accordo col comune, questo lo leggeremo nelle prime pagine dei giornali di oggi come andiamo a vedere subito dal Corriere dello Sport che apre sì con la Juventus, con il mercato, il possibile colpo di mercato dei bianconeri, ovvero Saponara, ma anche un'intervista al centrocampista svedese del Palermo Oscar Illiemark Iachini, il 10, i ritiri, questi gli argomenti trattati nell'intervista di Salvatore Geraci per il Corriere dello Sport, questo per quel che riguarda il Palermo nella prima pagina dell'edizione Sicilia e Calabria del quotidiano sportivo, mentre passando alla Gazzetta dello Sport, sempre in prima pagina, si parla di un ex giocatore del Palermo, ovvero Paolo Dibala, tutti i numeri di Dibala, ecco perché deve giocare, questo l'articolo della Gazzetta dello Sport in prima pagina sui problemi dell'attaccante argentino da quando è passato ai bianconeri, fatica a trovare spazio, lo stesso presidente Zamparini ha parlato nella giornata di ieri di quello che è il presente di Paolo Dibala alla Juventus e di quelli che sono i problemi dell'attaccante argentino con l'allenatore Allegri che non riesce a trovare uno spazio nell'undici titolare della Juventus e dalle prime pagine dei quotidiani sportivi passiamo alla prima pagina della Repubblica, edizione Palermo, dove in taglio alto troviamo Orlando Zamparini di sgelo sullo stadio, appunto quello che dicevamo prima, un possibile nuovo accordo tra il Palermo e il Comune per quello che sarà la costruzione del nuovo impianto sportivo dove dovrà giocare la squadra a rosa nero nei prossimi anni, un accordo che come leggiamo nell'articolo a firma di Francesco Patanè per la Repubblica, Orlando incontra Zamparini, il nuovo stadio si farà allo Zen, quindi incontro tra il presidente Maurizio Zamparini e il sindaco Leo Luca Orlando per ricucire il rapporto dopo il primo gelo per quel che riguarda la questione stadio, dunque si sta trovando, si sta cercando di trovare un nuovo accordo per permettere al Palermo di avere una sua nuova casa, per avere una casa di proprietà e non disputare più le partite casalinghe allo stadio Renzo Barbera avendo così un impianto moderno e ovviamente un impianto più adatto alle esigenze di un club di Serie A come il Palermo si è confermato essere negli ultimi anni. passiamo dal fuoricampo, dall'impianto del Renzo Barbera che potrebbe essere sostituito da un nuovo stadio allo Zen, passiamo a quello che è il campo con il giornale di Sicilia in taglio basso i risultati dell'Europa League di ieri, sorridono Napoli e Lazio, Rossi non basta alla Fiorentina, mentre troviamo anche un'intervista di Giovanni Tarantino a Darwin Pastorin, giornalista italo-brasiliano che parla di quello che sarà la partita del Palermo-Inter ma anche di Beppe Iachini che ha conosciuto a Firenze paragonato a Paolo Sousa e Sarri, due delle rivelazioni delle panchine italiane in questo inizio di stagione gli allenatori di Fiorentina e Napoli. sempre giornale di Sicilia, vediamo anche l'intervista a Sinitian Delcovic che ha parlato ieri alla presentazione del nuovo store ufficiale del Palermo ma anche un articolo a firma di Salvatore Loiacono su quello che è il momento d'oro di Franco Vasquez che ora non vuole fermarsi più. L'attaccante italo-argentino ha segnato la sua prima rete in campionato nella sfida contro il Bologna, adesso prova a ripetersi nei due big match contro Inter e Napoli nel giro di una settimana. E poi vediamo nel mezzo anche un ricordo Amarcord, da Delneri a Mangia fino a Sannino quelli che hanno battuto i nerazzurri, ovvero un giro a tappe su quello che è stata l'avventura del Palermo in Serie A contro l'Inter nelle partite casalinghe, partite che hanno visto il rosa-nero vincere per tre volte appunto con Delneri in panchina nel 2005, poi con Mangia e con Sannino in quella che sembrava essere una cavalcata verso un'isferata salvezza, ricordiamo la partita vinta 1-0 con un gol di Ilicic che portò il Palermo per la prima volta nel girone di ritorno fuori dalla zona retrocessione, purtroppo non bastò per salvare il rosa al termine del campionato. Sempre nella stessa pagina del giornale di Sicilia troviamo anche le parole di Maurizio Zamparini sul caso Paolo Dibala alla Juventus, Allegri sta rovinando un campione, leggiamo qui sul giornale di Sicilia, Paolo Dibala che non trova spazio alla Juventus, Paolo Dibala che per il Palermo è stata una stella fino allo scorso anno dopo aver avuto un inizio difficile, tappe che sta cercando di ripercorrere con la maglia rosa-nero anche il brasiliano Matteo Cassini, attaccante arrivato in estate dal Corinthians che per il momento è protagonista con la primavera e ascoltiamo a tal proposito le parole di Edoardo Cornasini, il procuratore di Matteo Cassini. Dopo varie partite in panchina in prima squadra Cassini ha avuto l'opportunità di giocare con la primavera e ha fatto anche due reti in due partite. Qual è il suo amore in questo momento e secondo lei queste occasioni servono a Matteo per potersi mettere in mostra? Matteo è contento di segnare per la primavera, è sempre importante anche giocare, però è un livello che lui già conosce bene da Brasile, è un livello che è fatto benissimo in Brasile, è stato il miglior giocatore della nostra via Reggio e di sicuro lui conosce bene, per lui è un livello che è normale, capisce. Oggi Gerolin ha detto che arriverà il momento di Cassini in prima squadra, ma lui si sente già pronto per esordire con i grandi? Visto che Gerolin ha detto che arriverà il momento di Matteo, lui è pronto, lui spera un'opportunità, ha tanta ansia e voglia di giocare, lui lo sai che non sarà un titolare, ma spera giocare 10-15 minuti, provare di poco in poco che può essere utile alla prima squadra. Iachini tempo fa disse in conferenza stampa che Cassini da quando è a Palermo ha perso qualche chilo o meno mettendo su massa muscolare, come prosegue appunto il suo percorso di crescita? Matteo è fissurato in calcio, lui 24 ore di soggiorno c'è il calcio in testa, lui ha sentito che Iachini ha detto che lui non era ancora pronto e alena, te lo dico che Matteo se c'è tempo libero va a allenare, io sono sempre preoccupato di dire che Matteo deve anche riposare un po', ma lui è aficionato, lui è aficionato, lui sempre ascolta consigli di persone che già è lì, sempre parla con Paolo Guerrero, sempre vede Cristiano Ronaldo che è il suo idolo, e sempre cerca qualcosa da fare per diventare più forte, più veloce, più dinamico e il risultato stiamo vedendo, posso dire che Matteo oggi è un bambino ma diventa una macchina tra due e tre anni. Nonostante abbia detto più volte lui stesso che non è di bala, secondo lei Cassini può avere la stessa parabola ascendente dell'argentino? Non penso che lui è di bala, lui anche lo sai che non è di bala, che deve fare tante e tante per arrivare a livello di bala, l'unica cosa che lui vuole è diventare più forte fisicamente e psicologicamente tutti i giorni, questo è il discorso nostro, tutti i giorni quando andiamo a bocca di falco, tutti i giorni quando lui è allenando da solo, in testa è diventare più veloce, più veloce di ieri, più forte di ieri, è così, questa è la testa di Matteo e un giorno speriamo arrivare a questo livello di di bala ma lui lo sai, non è il nuovo di bala, non c'è questa responsabilità, la responsabilità di lui è poco a poco prendere spazio nella squadra se questo arriva, se merita questo e dopo aiutare Palermo. Infine un'ultima domanda, Lisiero è uno dei nomi di spicco, un suo assistito che è stato fatto più volte come nome per il Palermo, attualmente è impegnato con la nazionale brasiliana nel mondiale under 17 dove è presente tra gli altri Bacin, il dirigente del Palermo, secondo lei può essere un profilo adatto per il Palermo e soprattutto sa se lo stanno visionando? Su Lisiero non posso dire, non posso parlare niente, l'unica cosa che posso dire è che siamo vicinissimi di due squadre, Bacin è a Chile, come tanti altri osservatori, è chiaro che conosce Lisiero, Gerolim lo sai che è Lisiero, Bacin anche lo sai che è Lisiero, quindi non è un nome sconosciuto per loro, ma di Lisiero non posso dire, non posso parlare, scusa. Il mio nome è Annawar, recitare mi permette di esplorare, di cambiare, sono attratta da quello che mi sorprende, come quest'auto è un cambiamento totale. Nuova Hyundai Tucson, change is good. Tu a 19.450 euro e con Hyundai iPlus a 290 euro al mese, in tutti gli showroom Hyundai. Passa a Team, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi Team Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3 barra G. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e accessori. Teleottica Carla, venite a trovarci per scegliere la montatura più adatta al vostro viso e alla vostra personalità. Siamo a Cinesi, in Corso Umberto 98 e a Terrasini, in Via Perez 78. Telefono 091 86 65 661. Teleottica Carla, ci prendiamo cura del vostro sguardo. Stop, la convenienza è solo qui. Sconti del 50% per rinnovo esposizione, alta qualità, a basso prezzo. Finanziamenti a tasso zero fino a 30 mesi. Gaspar e Mazzola a Redi, Via Papa Sergio XII a Palermo, zona a Renella, di fronte Villa Igea. Telefono 091 54 6621. E abbiamo ascoltato dunque le parole di Leonardo Cornasini, agente di Mateus Cassini. Cassini che spera in futuro di poter trovare spazio in prima squadra nel Palermo, uno spazio che invece si è già ritagliato un altro giovane della cantera a rosa nero, ovvero Oscar Iliemark, il centrocampista svedese che è stato intervistato da Salvatore Geraci per il Corriere dello Sport. Leggiamo Iliemark per Oscar, segnare alla moda, riferendosi ovviamente ai tre gol già realizzati in campionato, andiamo a leggere qualche stralcio di questa intervista, gli obiettivi, voglio realizzare i miei sogni, la Champions in un grande club mondiale, ovviamente sogni da calciatore come per tutti quanti, quelli di Oscar Iliemark, il suo rapporto con la fidanzata l'ho conosciuta su internet, i suoi sogni da bambino, mia madre mi regalò per due anni i pantaloni eleganti pianzi e volevo gli scarpini, ovviamente riferendosi a quella che è la sua volontà di fare il calciatore sì da bambino, e infine il rapporto con Iachini e Zamparini, Iachini mi piace, sia lui che Cocu, ex allenatore del PSV Eindhoven, danno valore all'aspetto tattico in Italia, conta la squadra, Zamparini ha voluto lui che indossassi la maglia numero 10, il ritiro è la prima volta che mi capita, vuole comprare, questa è una curiosità, la casa a Mondello dove d'altronde stanno gran parte dei calciatori del Palermo, leggiamo inoltre sempre sul Corriere dello Sport le parole del presidente Zamparini sul rinnovo di contratto di Stefano Sorrentino e il nostro capitano e il nostro portiere non ci saranno problemi a trovare un accordo, quindi parole abbastanza fiduciose da parte del patron rosa nero per quel che sarà il rinnovo del capitano del Palermo Stefano Sorrentino che ha già ammesso di voler restare a Palermo, che la sua priorità è appunto restare a Palermo, una priorità che è la stessa anche per Sinicia Andelkovic, come andiamo a leggere nella pagina siciliana della Gazzetta dello Sport, Andelkovic pronto con l'Inter prendo in mano il Palermo, il difensore sloveno ha trovato un posto da titolare dopo otto partite di assenza tra campionato e Coppa, quindi esordio a Bologna e adesso la voglia di riconfermarsi. Andelkovic che ha parlato nella giornata di ieri alla presentazione del nuovo store ufficiale del Palermo allo stadio Renzo Barbera, ascoltiamo quelle che sono le sue dichiarazioni. Sono felice per prima, lo so che il lavoro prima o poi viene e spero che questo obiettivo devo continuare così. Ma è così, il calcio è così, lo sappiamo tutti, quindi l'importante è che arriva sempre più bello questo. Speriamo che dopo la partita sia così come avete detto voi, ma l'Inter è una squadra molto forte, lo sappiamo come sono giocatori importanti, dobbiamo preparare bene. Quanto è stato importante per il gruppo questa vittoria di Bologna? Secondo me molto per la testa, per andare avanti, secondo me è molto importante per tutti noi. L'abbraccio finale con Ghiachini, testimonia di un gruppo sempre molto molto unito. Lo sappiamo, è il mister quello che vuole fare per bene per tutti, poi dopo la vittoria siamo sempre contenti. Sì, tutti e due sono, lo sappiamo tutti, molto importanti per l'Inter. Per noi è molto importante questa partita, dobbiamo dare tutto. Ma l'importante è quello che stiamo bene, o tre o quattro, l'importante è che tutta la squadra deve fare difesa bene. Come ho detto prima, tutti noi quando andiamo a campo, poi pure io penso che devo dare sempre massimo, tutti i giorni in allenamento e poi quello che paga. Un sinistro a Angelkovic che è dunque pronto per la sfida di campionato contro l'Inter, una sfida nella quale il difensore sloveno dovrebbe partire da titolare, come leggiamo nelle probabili formazioni che ci propone sempre la Gazzetta dello Sport. Linea a tre per il Palermo con Struna, González e Angelkovic, Rispoli e Lazzar sugli esterni con Maresca, Rigoni e una sorpresa in mediano, ovvero Jai allo schierato da mezzala. Davanti la solita coppia d'attacco formata da Vasquez e Girardino, di contro l'Inter risponde con Andanovic in porta, difesa a quattro con Santon, Miranda, Murillo e Juan Chiesus. Centrocampo a due con due mediani, ovvero Condobbia e Medel. Esterni, Biabiani e Perisic e Jovetic dietro, l'unica punta che dovrebbe essere quasi sicuramente l'attaccante argentino Icardi. Per Palermo-Inter vediamo anche quali sono le quote che ci propone Kbet.it. Inter leggermente favorita, il 2 è quotato a 2,10 per Kbet, mentre il pareggio a 3,30. La vittoria del Palermo è quotata a 3,65. Quotazione bassa anche per quel che riguarda il gol, ovvero la presenza di gol per entrambe le squadre a 1,68, mentre il no-goal a 2,05. La doppia chance, vediamo uno hits, quotato a 1,70, hits 2 a 1,27, 1,2 a 1,32. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, troviamo la quota più bassa nell'1,0 per il Palermo, quotato a 11, mentre il 2-1 è quotato a 12. Con quelle che sono le quote per l'anticipo di sabato, Palermo-Inter non buona giornata del campionato di Serie A, si conclude la puntata di oggi di Calcio e Caffè, appuntamento alla prossima settimana e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.